Buongiorno e benvenuto alla segna stampa di oggi sabato 6 aprile. Oggi sui giornali, su tutti quanti i giornali, la tensione non è più tra Lega e Movimento 5 Stelle, c'è un passo diverso. La tensione è tra Di Maio e Salvini. La battuta che tutti quanti riprendono è del vice premier Di Maio che dice che vi alleate con chi nega l'olocausto in Europa. Ovviamente il riferimento è al partito di Matteo Salvini e buongiorno Umberto e questa alleanza e questa battuta ovviamente esistevano anche prima dell'alleanza. Il fatto che oggi se ne sia accorto evidentemente rende il senso della loro tensione. Dall'altra parte Salvini risponde a Repubblica da Toninelli a Costa troppi blocchi, troppe persone che dicono di no. A pensare più che Toninelli a Costa che è più silenzioso il ministro che è diventato ministro grazie all'invenzione della terra dei fuochi. Non che non esistano ovviamente sia chiaro i rifiuti interrati dalla camorra in alcune aree della Campania. Ma averla resa di dimensioni così nazionali ha distrutto un'area economica e anche la deputazione di un'area che ovviamente è stata compromessa in alcune zone. Ma non è che la bufa la campana è per definizione inquinata. Lo è soltanto in alcune zone molto circoscritte che però hanno reso famoso il forestale, poi diventato carabiniere e oggi diventato ministro dell'ambiente. Che dice di no a tutto, molto più di quanto faccia Toninelli. Chiusa la parentesi e aperta l'altra questione. Repubblica infatti riporta una questione, una battuta di Salvini ancora peggiore se volete. E cioè che Tria che si difenderebbe sarebbe il ministro difeso addirittura dalla Lega. Ma è anche vero che nei giorni scorsi dicono che quel ministero spetterebbe dopo le europee proprio il partito di Salvini. Insomma, di Tria dice che bisogna che si dia coraggio, sembra Don Abbondio, o se non ha coraggio facesse il panettiere. Come se, non lo so, forse il panettiere è un mestiere dotato di particolare, di poco coraggio. Uno degli analisti che oggi sono stati piuttosto interessanti, buongiorno a Simona, oggi presente nella mia rassegna stampa, dice, Uno dei analisti oggi più interessanti, buongiorno a Tonietta, è Franco, Massimo Franco sul Corriere della Sera, che dice, beh, insomma ci sono due scuole di pensiero. La prima è che ci sia un gioco delle parti, prima delle europee, dopo le europee, tutti amici con i voti delle europee che magari gli danno un senso diverso a questo governo, con la Lega che ha guadagnato consenso e quindi magari qualche rimpasto la premerebbe all'interno del governo. L'altra è che tra i due in realtà si sia rotto davvero qualcosa. L'idea che questa rissa sia concertata, dice, Franco, è sempre meno convincente. Quindi Franco pensa che stiano litigando davvero Marco Grigoletti. C'è da dire che il Corriere della Sera e Repubblica, ma anche noi del giornale, ma insomma dal primo giorno abbiamo detto che erano in rista e quindi partiamo dal Corriere dove c'è Franco. Se lui pensa che fino a poco di tempo fa era concordata, beh, insomma il suo giornale la prendeva sul serio. Insomma ci sono un po' di ipocrisie, cioè da una parte i suoi analisti dicono, beh, forse fino a un po' di tempo fa la rissa era concordata, però il suo stesso giornale fino a un poco tempo fa credeva a questa rissa davvero, anche se i suoi analisti pensavano fosse concordata. Insomma, in una specie di gioco delle parti colossale in cui si deve essere antigoverno, i giornalisti poi a un certo punto dicono, beh, adesso non è più concordata, è fantastico. Insomma, questo è il modo nostro un po' di fare giornalismo, sempre opinioned, però devo dire che oggi è convincente il pezzo di Franco. I sondaggi di Pagnoncelli, io ci credo quanto ai sondaggi su qual è il caffè che mi piace di più, cioè pari a zero, nel senso che finché non si vota non hanno granché valore, però sono sempre molto divertenti perché in realtà confermano o sconfermano le vostre pregiudizi su quello che stanno facendo i politici. È semplicemente una cosa individuale il sondaggio. Oggi che cosa dicono i sondaggi di Pagnoncelli? Dicono una cosa però controtendenza rispetto a quello che dicevano nelle ultime settimane, in cui noi dicevamo, ah, il Movimento 5 Stelle sta perdendo prese, tutto della Lega, quindi la Lega guadagnava, il Movimento 5 Stelle perdeva. In realtà il Movimento 5 Stelle nell'ultimo sondaggio di Pagnoncelli guadagna un 2% e arriva al 23,2%. Il PD risprofonda al 19% secondo Pagnoncelli. Maura, buongiorno, viva la Lega sempre, dice Anna Maria. Vome, noi vogliamo bene a Travaglio, Françoise, ma che dice? Poi andiamo avanti. Fantastico, fantastico, fantastico. Oggi, Gabriele, un saluto a Gabriele Lamonica, che vedo che si collega, io lo seguo sempre su Facebook, è uno tostarone, mi dà anche qualche deuzza. La cosa che mi diverte più di tutto oggi è questa super inchiesta di due pagine. I russi vogliono condizionare i partiti europei che gli diano una mano. E chi vogliono condizionare in Italia? E beh, chi vogliono condizionare? Ovviamente vogliono condizionare Lega e Movimento 5 Stelle che governano. E allora dici, questo documento segreto, questa inchiesta segreta, da chi cavolo arriva? È una mail, è una mail. Bene, e questa mail, da chi è fatta? È fatta da un ex spione, ex politico, ex, oggi porta borsi di un politico del partito di Putin, questo signore, a chi ha mandato questa mail? A Khodorkovsky. E chi è Khodorkovsky? L'ex gerar, l'ex oligarca che aveva fatto Yukos, quindi proprio uno che ha un pelo sullo stomaco che ci riavvolge cinque volte, oggi dissidente perché non fa parte del giro di Putin. Allora, qual è la storia? Che un ex spione, oggi ex parlamentare, oggi porta borsi di un parlamentare di Putin, manda una mail al dissidente nemico giurato di Putin per dire che questi russi stanno dando una mano ai partiti che stanno con la Russia. E questo è il grandissimo documento. Allora, a casa mia, una fonte di questo tipo, che verrà pubblicata da Repubblica, da ZDF, da quello che cavolo vi pare, dal consorzio dei giornaloni mondiali, vale meno di quella cagata dell'inchiesta di Mueller che è finita in un nulla di fatto rispetto a Trump. Ma vale niente! Una mail con un documento che non si sia neanche peraltro chi l'ha scritto. Poi, se vi andate a leggere il documento, dice, beh, dobbiamo stare con i partiti che... che dobbiamo fare lobbying per i partiti che sono contro le sanzioni della Russia. E vabbè, ma questo lo farei anch'io. E certo, e ce l'ho ben ragione. E con chi stanno? Con quelli che vogliono le sanzioni della Russia, secondo voi? Stanno con quelli... Ma anche se fosse! Anche se tutto questo è vero! È una cagata pazzesca! Ma hanno una cagata per la quale si permette di dire gli interventi dei russi in Italia, nella politica italiana, non solo quella italiana. Peraltro non mi sembra che abbiano fatto granché su queste sanzioni russe i politici italiani. Ma vabbè, è una roba da una barzelletta, barzelletta. Riguardo al marocchino che ha ucciso solo perché è felice, un italiano a Torino, un pezzo di Sallusti oggi davvero tranchant. Perché? Perché Sallusti che cosa dice? Scusatemi, noi facciamo pagare a Mauro Moretti, quello che si è inventato ad alta velocità e che ha risanato le ferrovie dello Stato, e un bullone che si è staccato da un vagone tedesco che ha creato quell'incendio mostruoso per cui sono morte innocenti molte persone a Viareggio e l'abbiamo condannato a 16 anni di carcere. Stiamo condannando, e abbiamo condannato a tanti anni di carcere, quelli della Thyssen, ma non quelli che gestivano la fabbrica a Torino, quelli che erano responsabili oggettivi, cioè gli amministratori delegati, per quel rogo per cui morirono degli operai italiani. E stiamo mettendo sotto processo, buongiorno Rossana, anche i Benetton per il Ponto Morandi, per la responsabilità oggettiva che i capi devono avere su quello che arriva nelle province dell'impero. Bene! Allora, fatte tutte queste premesse per i privati, ma perché i magistrati che non hanno eseguito la sentenza per cui un marocchino ha ammazzato un italiano sgozzandolo in piena città di Torino, beh, questi non pagano nulla, si chiede Sallusti. Tra l'altro questo era dal 2016 che era stato condannato con sentenza definitiva e questo doveva farsi un anno e otto mesi di carcere perché non era stato giudicato neanche idoneo alla condizionale per tutti i suoi precedenti penali e voi lo tenete libero? E voi non pagate? Cioè, i privati pagano sempre, le imprese pagano sempre e voi mai, dice Sallusti, come non darti torto. Sulla questione dei Rom e di Torremaura molto interessante l'intervista a Ricolfi fatta oggi. Ciao Kate! Fatta oggi dalla verità, perché cosa dice Ricolfi alla verità oggi? Ragazzi, guardate che la questione dei Rom non c'entra nulla col razzismo e lo dice un filosofo e un sociologo, scusatemi, non certo, di Casa Pound, perché questo certo non è Ricolfi, ma è basato semplicemente sull'esperienza che se hai 77 famiglie di Rom con molti minorenni vicino a casa tua, forse un tema di sicurezza ce l'hai vicino a casa tua. Chiaro, questo dice Ricolfi. Spionaggio 5 Stelle invece è la scelta del giornale riguardo alla multa di Rousseau, che è una questione anche molto quotidiana, perché oggi Davide Casaleggio ha detto che l'autority per la privacy li ha multati di 50 mila euro per motivi politici, mentre oggi si vede molto bene sul giornale come in realtà questa piattaforma Rousseau permetta ai gestori della piattaforma di avere tutta una serie di informazioni su chi si iscrive alla piattaforma, cioè agli iscritti, ma anche ai deputati, che sono completamente, come possiamo dire, incompatibili con la moderna tutela dei nostri dati riservati. Pensare che vuol dire che Casaleggio si consolida i dati sia degli iscritti sia dei deputati, insomma, che si sono iscritti alla loro piattaforma e sono obbligati a farlo per quanto riguarda i deputati, forse non vi rende così sereni. Vabbè, l'avvenire è straordinario. L'avvenire si occupa della Libia non per motivi umanitari, non per soltanto perché, siccome l'avvenire è diventato il nuovo manifesto, cioè oggi non è più il manifesto, ma è l'avvenire, oggi i comunisti non sono più nelle sezioni del Partito Comunista o negli extraparlamentari, sono probabilmente in qualche parrocchia di Tarquinio. Bene, l'avvenire di oggi ovviamente si occupa della Libia soltanto per dire, l'avete visto? La Libia non è un porto sicuro. Quello che sta avvenendo in Libia, ovviamente, e lo sapete tutti, e cioè che c'è una sorta di guerra civile tra il governo autoproclamato di Tobruk e quello di Tripoli, invece appoggiato da tutta la comunità internazionale, il pezzo migliore di oggi forse è quello di Daniele Ranieri sul foglio, che ci spiega che questo generale Aftar che sta andando a Tripoli contro il consenso internazionale, ma con l'appoggio di Egitto, Francia, Emirati Arabi e Russia, persino della Francia di Macron che sotto sotto dà una mano a ribelle. Bene, questo esercito è fatto come una grande schema Tom Ponzi, cioè Ponzi, scusatemi, cioè che gli eserciti si aggregano sperando che alla fine vinceranno, e che sono peraltro eserciti costituiti in gran parte da salafiti. Quindi questo signore che appoggia i francesi ha un esercito di persone che seguono molto la religione, il fondamentalismo islamico, molto più del laico, diciamo, Aftar che sta, Serrai che sta a Tripoli. Insomma, un gran pasticcio, Ranieri dice, però attenzione, perché in genere Serrai ci ha abituato, Aftar ci ha abituato, cioè quello che sta occupando, anche a grandi bluff, come quando si presentò in televisione, disse, ho fatto il colpo di Stato, la Libia è mia, tutte cagate, perché era da solo e nessuno lo aveva seguito. Interessante, quindi Ranieri, anche se oggi ha preso l'aeroporto di Tripoli, vediamo un po' come si conclude. Bonomi, presidente della Confindustria di Milano, contro quota 100, dice, non serve a nulla, la stampa parte e parla solo di questo, così come interessanti due pagine dedicate al Mr. Huawei in Italia, cioè l'amministratore delegato cinese della società di telefonini cinese, appunto, che ha qualche discussione con il governo, dice, in realtà gli americani ce l'hanno con noi perché sono indietro sul 5G, cosa peraltro verissima. Io aggiungerei pure che gli americani sanno come si spia, come ce ne accorgemmo con Obama che aveva durante il suo, altro che Trump, stava a ascoltare le telefonate della Merkel, sanno bene come si spia e quindi dare i telefonini in mano e le reti 5G in mano ai cinesi per loro è molto preoccupante, ma c'è anche una questione, diciamo, di tecnologia che gli americani non hanno. Direi che per oggi è tutto. Tra le altre follie americane, cioè del politicamente corretto e su che cosa vuol dire non avere per esempio un sesso definitivo e sul fatto che uomo e donna siano due sessi minoritari rispetto alla fluidità del mondo, così sostiene una straordinaria rivista, ha scritto Varanelli sul sito nicolaporro.it è un pezzo che vi dovete vedere e leggere perché non ci credete, non è possibile che gli americani quando sono cretini sono così cretini. Per oggi è tutto, vi do appuntamento con la zuppa domani, ciao!